16 giugno 1944. Dopo aver subito 36 pesanti bombardamenti che devastarono la città, Foligno venne liberata dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista. Le truppe alleate e i partigiani ingaggiarono un violento combattimento con i tedeschi all'altezza di Ponte San Magno e via Franco Ciri. Quest'anno ricorre il 77esimo anniversario dalla liberazione della città di Foligno e dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia la cerimonia è tornata a svolgersi in piazza Don Minzoni, uno dei principali centri nevralgici della città. Possiamo dire che quest'anno siamo riusciti a commemorare degnamente questo giorno importantissimo per la nostra città perché purtroppo l'anno scorso è stata una commemorazione estremamente ridotta e ristretta a causa, come tutti noi sappiamo, del Covid. Quest'anno abbiamo voluto ripristinare quello che è un degno ricordo di quella giornata straordinaria che appunto ha visto la città di Foligno tornare libera da una dittatura. Come si è svolta questa cerimonia qui in piazza? Come sempre prevede il coinvolgimento da parte di tutto ciò che rappresentano le istituzioni della città, quindi erano presenti tutti i corpi militari, erano presenti le associazioni combattentistiche, erano presenti l'AMPI, erano presenti tutti i rappresentanti di quelle istituzioni che hanno contribuito alla liberazione della nostra città.